Ma ci arriviamo francamente un po' arrabbiati, arrabbiati perché troviamo il settimo posto punitivo per quello che abbiamo fatto quest'anno, quindi abbiamo questa componente in più che nei derby precedenti non c'era. Se mettiamo le due squadre sulla bilancia c'è una grossa differenza di tornellaggio, quindi direi i loro lunghi e fondamentale per noi sarà l'apporto della Pachini. Loro si sono definiti una Ferrari, noi siamo una 500, carina però alla fine un po' piccola, vediamo se cambiando le gomme e correndo sullo sterrato riusciamo a animare il gap, quindi dico 2-0 però non mi ricordo più perché.